Il video è offerto da sono i risultati che non confermano l'impegno che ci sto mettendo io e che ci stiamo mettendo tutti quanti di squadra, quindi è brutto ma l'importante è non demoralizzarsi davanti a tutto questo, sennò ti si martella la testa, si sbatte contro un muro e via. Non è facile spiegarlo, ma non è neanche facile attaccare una partita e ammazzarla, bisogna sempre essere concentrati sul pezzo, sapere cosa si deve fare per 40 minuti ed è una cosa che è difficilissima da fare, è più facile da dire che da fare. Facciamo sempre stati tutte le partite per 40 minuti sul pezzo, avremo molti più punti, ma purtroppo i cali di concentrazione capitano un po' troppo spesso nei momenti magari più importanti della partita. Purtroppo è successo anche a Bologna. Non è bello trovarsi questa situazione ovviamente, ma una volta che ci si è dentro comunque bisogna pensare che la stagione è comunque lunga, che errori siamo consapevoli di averne fatti in alcune partite per tanti motivi, appunto come i cali di concentrazione, magari non aver rispettato al meglio il piano partita. E quindi bisogna togliere tutto questo, bisogna migliorare, abbiamo avuto degli step che ci hanno dato un po' di fiducia, anche questo qua di Bologna, nonostante la sconfitta, bisogna sempre vedere anche un po' il bicchiere mezzo pieno. Però la classifica la guardiamo, se si guarda proprio la classifica abbiamo anche un po' la fortuna di averla piuttosto corta nella seconda parte del gruppone. Vediamo di far bene, ovvio che sempre si inizi all'inizio del campionato, quelli di Milano, non sono mai due punti che te li assegni come due punti da portare a casa per forza, ma sono due punti che se li ottieni sono due punti in più, come è successo anche l'anno scorso, abbiamo giocato qui senza paura, senza timore, alla fine è andata bene. Con Brescia invece sarà una bella sfida da giocare lì, con qualcosa di diverso in palio rispetto all'anno scorso, anche se è una giornata la stessa, però bisogna dal punto di vista della testa cercare di fare bene innanzitutto, magari due punti rubarli da qualche parte perché ci servono soprattutto per, non tanto per la classifica ma appunto per noi di squadra. Il fatto di affezionarsi a una squadra si dipende anche dalle vittorie e questo ci sta, però è tutta una cosa reciproca, noi dobbiamo dimostrare quanto possiamo fare di meglio facendo vedere che vogliamo vincere per noi, per la società e per tutto il pubblico che ci segue, e di conseguenza anche tutti quanti i tifosi ci hanno sempre dato una mano e quindi io spero che questo possa continuare, anche quando ci sarà magari qualche persona in meno perché è inevitabile che a volte il pubblico si attacca anche un po' ai risultati e all'andamento della squadra, basta vedere quando si fa i playoff che qua non ci si respira, però spero che questo continui sempre perché comunque chi veramente ci sta col cuore qui sotto la curva a tifare e non ha mai fischiato nessuno anche nei momenti veramente pesanti di questa società in Serie A. Gli dobbiamo anche qualcosa in più perché il supporto che abbiamo qua non c'è da nessun'altra parte. Gli dobbiamo anche questa società in Serie A.